Eccoci qua in diretta. Buongiorno, benvenuti a questo sabato 4 aprile. Vi ricordo a tutti quanti che noi domani, anzi lunedì, faremo e ritornerò a Quarta Repubblica, quindi sono felicissimo di poter ritornare in televisione. Sono uno dei pochi fortunati che può riprendere a lavorare. Ragazzi, oggi il mio sconforto totale, totale, per il giornale unico del virus, oggi ho intenzione di recensire per il giornale, io tutte le domeniche recensisco un libro per il giornale, una rubrica che si chiama pomposamente Biblioteca della Libertà, e quindi mi sono andato a rileggere Orwell 1984, e qui sembra proprio di avere a che fare con il Ministero della Verità, con la psicopolizia. In realtà non ci sono i droni per strada nel 1984, ma ci sono degli schermi che ti vedono e ti guardano, e lui, il protagonista, si deve mettere a scrivere nel suo diario a casa, in un posto in cui non c'è neanche uno schermo che lo riprenda, è la situazione in cui ci troviamo. Perché se oggi una giornalista, di cui non faccio il nome perché non voglio fare polemiche personali in questo caso, vorrei evitare di fare polemiche personali, oggi una giornalista sul messaggero, per dire che la psicoverità è entrata nel nostro cervello, come il protagonista di Orwell, che alla fine viene convinto che è giusto la verità unica del partito. Sentite cosa scrive questa giornalista oggi su un giornale italiano importante e che io apprezzo, che si chiama Il Messaggero. Aspettate, si stanno muovendo prefetti e sindaci per contenere la smania di villeggiatura degli italiani. No, avete capito? Cioè, si stanno muovendo prefetti e sindaci per contenere la smania di villeggiatura degli italiani. Ma ragazzi, ma siamo impazziti? La smania di villeggiatura? La smania di libertà? Siamo agli arresti domiciliari? Siamo agli arresti domiciliari e ci rimaniamo e li rispettiamo? Ma non possiamo prendere per i fondelli gli italiani che magari a Pasquetta vorrebbero essere nella loro casetta al mare? Non li possiamo prendere in giro? Non è una smania. È un'ansia di libertà. Toc toc! Giornalista del Messaggero. Tra smania e ansia di libertà c'è una cosa diversa. La smania è un'altra cosa. L'ansia di libertà, che noi dobbiamo comprimere perché ci sono le leggi che a voi piacciono tanto contro la possibilità di uscire e fare i runner. Bene, non si chiama smania. Questa è la psicoverità. La psicoverità di Orwell. Ci siamo convinti che andare nella casetta al mare, che non possiamo farlo ovviamente per i denti motivi, è diventata una smania. È una legittima, libera desiderio di una persona che spera di ritornare libero. Non è una smania. E le parole contano, direbbe un amico della giornalista del Messaggero Moretti. Le parole contano. Però ovviamente quelle dei giornali un pochino di meno. Perché ieri succede una cosa incredibile. Perché noi facciamo finta che ieri il capo della protezione civile ha detto che avremmo aperto l'Italia il 15 maggio. 15 maggio! Cioè, voi state a casa un altro mese e mezzo. Va bene? Il capo della protezione civile dice che apriamo il 15 maggio? Secondo voi c'è un giornale. Uno! Uno! Che apra su questa minaccia mostruosa di stare ancora agli arresti domiciliari per un mese e mezzo. Ce n'è uno? Perché io avrei titolato Borrelli? No, forse è libero. Forse è libero. Com'è che il titolo è libero? No, è libero su un'altra cosa. Comunque, alcuni fondi ci sono. Ma vi rendete conto? Il capo della protezione civile. E qualcuno oggi lo dice. Chi è che lo dice? Forse lo dice... Adesso ve lo trovo. Qualcuno lo dice. Mi sembra che sia Feltri. E dice, ma scusatemi, ma Borrelli, ma chi è? Il capo della protezione civile? Chi l'ha eletto? Insomma, l'unico a cogliere questo aspetto, secondo me, interessante oggi è Vittorio Feltri, che dice, ci preoccupiamo tanto di Orban e affidiamo la nostra libertà a un funzionario della protezione civile. Noi usciamo e lui è meglio che vada a casa. Questo è il principio molto semplice di Feltri, però in realtà il nemico, come sempre nella psicopolozia, dovete leggervelo 84 di Orwell, che è il contrario di 48, quando lui lo scrisse. Perché? Perché Orwell l'aveva capita e proprio siamo là. E cioè, sapete cos'è? Il capo della protezione civile, mentre noi diciamo che è brutto, Orban, un fascista, quello che vuoi, il nostro capo funzionario ci dice che stiamo fino a 15 maggio a casa, e cosa succede? Qual è il titolo dei giornali? Oggi troppi fuori di casa. Cioè, cittadini multati, una crescita delle multe pazzesche. Beh, puoi vedere i pezzi del... Ho il titolo così, il Corriere della Sera, il messaggero, no? Perché ormai la smania di andare in villeggiatura è la smania di questi delinquenti assassini che escono di casa due o tre volte per fare la spesa. Bene, sapete cosa è successo? Che sono uscite di casa e le multe nelle ultime 48 ore sarebbero 15.000, 5.000 scrive in prima pagina del messaggero, ma lì evidentemente c'è un errore, diciamo, di battitura. Ma sono 15.000, quindi 7.000 un giorno e 7.000 il giorno prima. Prima ne venivano punite 6.000. Ma sapete quanto rappresentano queste multe rispetto ai controlli fatti? Il 3%, il 3%, mi sono fatto io la calcolatrice, 260.000 controlli, 7.000 multati e il 3% degli italiani viene colto in fragranza di reato. Cioè, pensa un po' tu di essere uscito di casa secondo una cosa che poi bisognerà dimostrare, se avevano veramente torto, se valevano le cose che avevano comprato, se valeva il fatto che si fossero allontanati troppo dalla prossimità. Io vi chiedo, ma quale legge in Italia, se uno dovesse fare controlli a tappeto da stato di polizia, come stiamo facendo oggi, non verrebbe rispettato al 3% degli italiani? Ma secondo voi, se noi avessimo tutta questa polizia e polizia municipale, e controllassero gli italiani che non stanno al telefono, al cellulare, in macchina, avremmo solo il 3% di multe? Se controllassero quelli che non hanno le cinture di sicurezza, avremmo solo il 3% di multe? Se controllassero quelli che fanno la differenziata, abbiamo soltanto il 3% di multe? Se controllassimo quelli che pagano esattamente le imposte precise e non hanno neanche una colfa nero, avremmo solo il 3% delle multe? Ma andate a quel paese! Giornale unico del virus! Titolo oggi! Aumentano le multe! Sono pochissimi quelli multati, sono niente! Oggi è forse più grave, i giornali non titolano che un funzionario della protezione civile dica che decidia le date per cui non rimanere a casa. Farina, in un pezzo molto bello, scrive un'altra cosa molto bella, scusatemi, Farina e Battista. Poi ci sono delle voci libere, perché Farina dice che in molti paesi europei le disposizioni di chiusura sono molto inferiori a quelle che facciamo noi. E Battista dice che contro la retorica degli usciremo migliori da questa malattia e la mistica del virus che ci ha colpito per colpa nostra. Quindi ne fa una polemica non tanto sull'uscire o non uscire, ma contro questa specie di idea del virus che ci fa bene. Poi arriviamo sulla politica, però io vorrei ritornare sull'apertura e la richiusura. Perché ragazzi, questa roba qua della chiusura e della riapertura non è una cosa banale, perché noi campiamo con le fabbriche, noi campiamo con i bar, noi campiamo con gli NCC e i taxi, noi campiamo con i tappezzieri, noi campiamo se tu non hai consumato un pasto al ristorante, non è che quando riapri quel pasto al ristorante lo riporti a casa, se tu non hai bevuto un caffè non è che te lo riprendi fra due mesi, il barista è il caffè che non hai venduto oggi, se tu non hai venduto un vestito è molto improbabile che tu riesca a vendere quello che hai perso nei prossimi mesi. Ma a questo non ci arrivano, non ci arrivano tutti i nostri giornalisti, che sono tutti dipendenti evidentemente. Qualche sfigatone che invece è un po' più aderente alla realtà, perché magari il suo stipendio se lo, come si dice, giornalistiche freelance, quelli invece la capiscono bene che vuol dire la chiusura di tutto, lo capiremo anche noi dipendenti quando ci metteranno in casa, noi dipendenti no, insomma io non sono dipendente, ma la capiremo quando arriveranno le botte per i giornalisti. Beh, Vespa oggi sul quotidiano nazionale dice le fabbriche devono riaprire dopo Pasqua perché poi si perderà il mercato. Ricolfi dice c'è un partito per l'apertura delle fabbriche, Ricolfi è stato molto duro, ha detto chiudete tutto, stanno sottovalutando, però Ricolfi dice due cose intelligenti, dice attenzione a non riaprire troppo presto perché rischiano, è il suo punto di vista, e lo fa in maniera laica, in maniera molto intelligente Ricolfi, dice lui non è per la riapertura immediata, a differenza mia, però dice perché il rischio è che poi si ricada nel virus, però dice anche attenzione perché non riaprire le fabbriche vuol dire che noi moriremo economicamente. Poi vi dico un'altra cosa, l'ho letta sul pezzo di Folli, lo dice Zaia, lo dicono altri, cioè sul rischio di riapertura e si cita il caso Hong Kong. Siccome io vorrei che voi faceste quello che non fanno i giornalisti, e cioè a parte che tra poco pubblicherò sul mio sito nicolaporro.it una lettera di una persona che vive a Hong Kong e vi spiega com'è la vita a Hong Kong, fate quello che non fanno il giornale unico del virus, che è, no, moriremo tutti, bisogna chiudere tutto, chi se ne frega dell'economia, tutte cazzate ovviamente. Cercate di vedere su Hong Kong che ha una trasparenza che non ha la Cina, perché non è la Cina Hong Kong, è ancora un paese libero fino a che può two states in two nations, one state in one nation o come cacchio si dice, comunque è ancora relativamente libero. Andate a guardare su internet quanto sono le persone che sono contagiate a Hong Kong. 846! 846! Quanti sono i morti di Hong Kong? 4! Quanti sono gli abitanti di Hong Kong e zone? 7,5 milioni! Secondo voi c'è il lockdown, come dicono Hong Kong? No, non c'è il lockdown, c'è un controllo, ci sono i vii, ci sono i sieri, ci sono i tamponi, ci sono le mascherine, ci sono i termoscanner, tutte minch... Puoi andare oggi... Toc toc! Folli! Ma anche Zaia, potete andare in un bar a Hong Kong? Sì, sì! Oggi si può andare, puoi andare in un bar in Italia? No! Quanti sono i morti in Italia? 14.000! In Hong Kong quanti sono? 4! Non facciamo paragoni, per favore, che non segnalo, perché loro questa roba l'hanno affrontata bene, a differenza nostra. Ma poi andiamo avanti, andate su internet, non vi fidate di me, guardate l'esperimento Hong Kong, perché vi leggete i giornali che sembra che Hong Kong adesso sia ritornato dalla pandemia e che ci sia il lockdown. Falso! Totalmente falso! Poi, fantastico, una piccola notazione la devo fare nella nostra straordinaria Italia, ma sapete di che cosa si occupa quei geni a Parma per dare i buoni pasto a quelli che non hanno fame? Giuro, lo titola oggi il giornale, lo leggo, per avere i buoni pasto, per avere i buoni pasto bisogna fermare un'autocertificazione in cui si sostiene di non essere fascisti, anzi di essere antifascisti. Questi devono essere presi a calci nel sedere. Quello che ha fatto questa autocertificazione deve essere lasciato per strada, immediatamente, come i dirigenti dell'Inps, licenziato, perché uno che ha questo problema nella testa dell'antifascismo vuol dire che ha dei seri problemi di rapporto con gli esseri umani, con la storia, con la civiltà, con la cronaca di oggi. Una roba da matti, da matti. Poi tu dici, vabbè, allora siccome c'è questo casino ci dobbiamo fidare dei virologi. Oggi, 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 leggendo i giornali io vi dico se noi ci si possa fidare di queste persone qua. Leggo. Il virus sta anche nell'aria e l'OMS, giravolta, quotidiano nazionale, usate le mascherine. Quindi l'OMS dice che è nell'aria e che bisogna usare le mascherine. L'Istituto Superiore della Sanità Italiano dice che non esiste che ci sia nell'aria e non c'è alcuna prova scientifica. ISS contro OMS e sono tutti e due sui giornali di oggi. Ma poi il virologo ci dice che non ci si contagia con l'aria. Palu, sul tempo. Alcuni altri invece dicono di sì. Oggi leggo sui giornali che la medicina migliore sul messaggero è il... come si chiama? La clorochina. Fino a giorni fa abbiamo visto che era quella contro i problemi reumatici. Ma non è finita! Un infettivologo alla verità dice che... No, 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 questo è di antimale. Dice... Uno studio dice che anche gli animali domestici possono prendersi il virus. Il che non è un dettaglio. Perché se cani... Oggi possiamo uscire col cane ma se il cane può prendersi il virus forse può contagiare quando tu lo accarezzi. Non lo so! Ma non sono indecisi! C'è il virus può andare sugli animali domestici? No! Può andare in aria o no? Dobbiamo usare le mascherine o no? Gli antivirali sono meglio degli antimalarici o no? Bene! Questi qui che non hanno capito niente del virus, del contagio, delle mascherine invece vengono a spiegare a tutti quanti noi di chiudere tutto. Ma forse qualche dubbio sulle loro capacità ce lo possiamo anche porre. Forse la politica, come dice oggi un pezzo di Angelo Panebianco che fino a ieri pensava dice Angelo Panebianco che gli scienziati fossero dei perfetti cretini oggi si affida completamente agli scienziati. Siamo completamente passati da un accesso all'altro ma secondo voi c'è una sola certezza che vi hanno raccontato in queste mese gli scienziati? Una! Io vi chiedo, ce n'è una! Come si contagia? Come si cura? Come si diffonde? Quando è nato? Le mascherine servono? Qual è il decorso della malattia? Quanto rimani contagiato? Gli animali domestici possono contagiarlo? Non possono contagiarlo? Non hanno una certezza su nulla! Se non una morite agli arresti domiciliari a casa state belli a casa! E io aggiungo poi stando a casa non contagiamo qualcuno andando a fare la spesa non contagiamo qualcuno quelli che lavorano non contagiano qualcuno chiudiamo tutto la psicopolizia del Ministero della Verità comunque oggi è fantastico la questione delle mascherine del contagio sull'aria del contagio sugli animali la trovate sui giornali non me la sto inventando io e nel frattempo l'ultima altre due cose ve le devo raccontare beh vabbè fantastico la regina d'Inghilterra il titolo del Daily Mail per la quinta volta nella storia della sua lunga vita di 93 anni farà una comparsata televisiva per parlare del virus lo fa sempre a Natale ma è la quinta volta che lo fa politicamente che succede? Beh Verderami parla su Corriere della Sera di un possibile rimpasto qui starebbero pensando PD e Movimento 5 Stelle io dubito che uno come Conte oggi che si sente un Dio in terra e che sta avendo ottimi risultati perché gli italiani sono contenti di stare evidentemente agli arresti domiciliari e pensano che lui sì comunque modi però voglio vedere fra dieci giorni quando starete ancora agli arresti domiciliari quanto sarete contenti quando non avrete i soldi per comprarvi la spesa quanto sarete contenti perché in realtà come per l'emergenza sanitaria all'inizio sembra tutto da sottovalutare quando arrivano le cose ti becchi una trambata in faccia e quando ti becchi la trambata in faccia dell'economia senza un euro beh in fondo forse non saremo così contenti ma il pezzo migliore oggi lo fa Bisignani sul Libero che ci apre il partito di Conte vi consiglio tutti di leggerlo più tardi lo metto anche sul sito perché lì si capisce esattamente come ci sia tutto studiato a tavolino dalle pagine Facebook ai giornalisti alla Travaglio che gli stanno facendo da trombettieri e i Travaglio che cosa fanno trovano il nemico nella regione Lombardia trovano il nemico in quelli che contestano Conte insomma il partito di Conte peraltro che lui aveva già detto che l'avrebbe fatta la politica in un'intervista a Repubblica è già lì pronto e sul Libero ci sono tutti quanti i dettagli nel pezzo sull'economia beh qui vi devo segnalare un'altra cosa banale cioè la cassa integrazione secondo tutte le procedure di queste nuove norme è diventata un grande casino lo dice il Sole 24 Ore per il Sole 24 Ore ci sono 20 diversi causali di cassa integrazione e 14 strumenti per averlo a me interessa poco quanti strumenti quanti causali peraltro come si dice i consulenti di lavoro stanno impazzendo e sono anche stati fatti fuori da una serie di procedure di tutele ma la cosa che mi fa impazzire la cosa che mi fa impazzire è che non arrivano i soldi lo scrivo oggi sul giornale lo pubblicherò più tardi sul sito non arrivano i soldi non arrivano né per i 600 Euro né per la cassa integrazione chi se ne frega qua siamo contenti se fai la domanda se rispetti la procedura ma qua con la procedura e con la domanda non mangi non paghi gli stipendi non paghi le bollette che arrivano senza procedure e arrivano a casa se questi non ci arrivano sono matti sono matti oggi mi ha scritto una lettera un commercialista sardo un consulente del lavoro sardo che mi ha detto che si può fare la richiesta la richiesta per la cassa integrazione soltanto dopo l'8 aprile toc toc presidente della regione Sardegna sarei pure uno di destra non mi interessa moltissimo se di sinistra, destra, alto o basso però mi dovete spiegare perché la richiesta si deve fare entro l'8 e poi sa benissimo che questa cassa integrazione per nove settimane non per la vita per nove settimane se seguissimo i tempi le procedure dell'Inps verrebbe erogata dopo sette mesi se seguiamo gli accordi con l'ABI ti obbligo a fare il conto corrente a mandare la ricevuta ad avere la garanzia personale ragazzi se noi non semplifichiamo moriamo e stiamo morendo di incasinamento 200 miliardi per le imprese perché questo può succedere dopo il giornalista unico il giornale unico del virus oggi ci fa capire che il problema sono le multe domani come riuscirà a tenere in piedi l'economia perché l'economia non è come il virus silenziosa che non si vede l'economia quando non mangi e quando vedi il titolo della stampa 200 miliardi per le imprese vai là e dici ma che vi siete bevuti il cervello cioè loro stanno anticipando i 200 miliardi per le imprese per un consiglio che dovrebbe avvenire lunedì ma qua non si possono dare i numeri abbiamo dato 50 miliardi all'economia secondo due decreti e all'economia è arrivato zero solo domande e procedure quindi io lo invito anche i giornalisti uscire un pochino dai propri giornali dalle proprie redazioni sentire l'imprenditore sentire la partita IVA sentire il professionista io vorrei che ci fosse qualcuno che ci dicesse ho ricevuto 600 euro ho ricevuto i soldi della cassa integrazione no se sei fortunato hai fatto la richiesta di cassa integrazione nel frattempo ci spiega bene Capezzone sulla verità la questione del MES perché martedì noi dovremo cercare di avere degli aiuti europei e adesso l'idea è che la politica dice mai mai il MES e la troica nel frattempo i tecnici stanno trattando per il MES poi magari alleggeriranno il periodo della troica ma state attenti tutti i soldi che prenderemo dal MES cioè da un meccanismo di finanziamenti non di solidarietà europea alla fine alla fine ci arriva in faccia con il controllo dei nostri conti cosa che è anche peraltro normale se io ti presto dei soldi ti controllo a meno che non ci sia una decisione politica per la quale si dice cerchiamo di essere tutti solidari ma se la politica decide di essere solidale usa i bond se decide di fare un'operazione di mercato che ci può anche stare però ci ammazza si fa il MES va bene nel frattempo vi segnalo invece a proposito di mercato quella straordinaria richiesta di lottieri in questa fase sul giornale che è un appello perché qua tutti e troppi stanno sperando che dopo questa crisi si riesca a come possiamo dire si riesca a ridurre il peso del mercato e aumentare il peso dello Stato e in quella maniera siamo fottuti avremo virologi burocrati borrelli come scrive qualcuno che comanderanno per noi l'ultima cosa che vi voglio dire è una questione personale io lunedì vado a lavorare a Quarta Repubblica e alcuni di voi lavorano ma io vi chiedo quelli che scrivono quelli che leggiferano i medici i giornalisti i politici tutti quelli che oggi compaiono in realtà oggi anche se in maniera attutita riescono a vivere ma io voglio pensare e voglio in ogni istante della mia vita voglio ragionare su quei milioni di persone anziani vecchi bambini persone che rispettano la legge perché non vanno a fare la spesa più di una volta alla settimana perché sono rigorosissimi quelle persone quanto tempo possono resistere a casa agli arresti domiciliari quanto tempo e non mi dicesse i galli della loggia che io sono un leguleio io penso che un paese chiuso agli arresti domiciliari che cantava le canzoncine e che come dice Lampi adesso il 25 aprile si mette a cantare bella ciao beh è un paese dove è meglio che non fai crescere i tuoi figli sperando che non siano tutti così ciao